Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova video lezione sulla vita di Alessandro Manzoni. Iniziamo subito parlando degli anni giovanili del nostro autore. Alessandro Manzoni nacque a Milano il 7 marzo del 1785 dal conte Pietro e da Giulia Beccaria che era figlia di quel famoso Cesare Beccaria che era stato uno dei più illustri rappresentanti dell'illuminismo lombardo. Fino al 1801 la formazione di Manzoni avviene all'interno di collegi religiosi dove Manzoni ricevette sì un'educazione classica ma dove maturò anche una sorta di avversione nei confronti proprio del formalismo religioso per cui quando uscì dal collegio aveva maturato anche delle idee libertarie e razionalistiche. Nell'anno 1805 si regò a Parigi dove raggiunse la madre la quale si era separata dal padre e viveva con Carlo Imbonati. In quell'anno Carlo Imbonati era morto per cui il viaggio di Manzoni verso Parigi per raggiungere la madre per confortarla. C'era un rapporto affettivo molto intenso tra Manzoni e la madre. La permanenza a Parigi gli permise di entrare in contatto con i cosiddetti ideologi i quali erano gli eredi dell'illuminismo. Tra questi molto importante la figura di Claude Foriel un filologo e uno storiografo che fu un vero e proprio mentore per Manzoni. Nell'anno 1808 Manzoni sposò Enrichetta Blondel che era una giovane di origine svizzera di fede calvinista la quale si era convertita al cattolicesimo. Nei due anni successivi Manzoni ebbe modo di frequentare diversi ecclesiastici anche di orientamento protestante ma nel 1810 si convertì pienamente al cattolicesimo. Nello stesso anno fece il ritorno a Milano ovviamente con una visione della vita e del mondo completamente rinnovata alla luce della sua conversione quindi alla luce della fede cattolica. In questi anni accantonò quindi la poesia classicheggiante perché anche il suo lavoro risentì della sua conversione e si dedicò agli inni sacri. Il lavoro degli inni sacri va dal 1812 al 1815. Questo suo lavoro adesso è completamente orientata verso un indirizzo romantico per cui sviluppò un interesse verso la storia e verso la religione. Condusse una vita appartata e non partecipò alla polemica tra neoclassici e romantici. Infatti declinò anche l'invito a collaborare con la rivista Il Conciliatore. Eppure essendo di sinceri sentimenti patriotici e unitari non aderì mai attivamente ai moti del 1820-21. Negli anni 23-27 escono le prime due stesure dei promessi sposi. Dopo l'anno 1827 gli interessi di Manzone si concentrarono sulla filologia. L'autore si trasferì a Parigi per studiare il fiorentino di uso comune. Il fiorentino di uso comune però di livello colto che da lui era considerato il modello linguistico ideale. Il modello attraverso cui riscrivere la sua opera i Promessi Sposi. Tra il 1840 e il 42 infatti lavorò all'edizione definitiva dei Promessi Sposi che si conclude con un appendice, la storia della colonna infame. Si dedicò all'approfondimento della storia e della filosofia e durante i modi del 1848 uscì l'ode marzo 1821 che era stata tenuta nascosta per tanti anni. All'Unità d'Italia nel 1861 fu nominato senatore del Regno d'Italia e fu considerato una vera e propria figura fondamentale per la cultura italiana, un vero e proprio maestro e una guida morale. Ricordiamo che con l'edizione del 40 dei Promessi Sposi la figura di Manzoni diventa una figura pubblica cioè aveva conquistato tantissimo successo e il romanzo veniva ristampato continuamente. Manzoni morì a Milano nell'anno 1873. Mi raccomando ragazzi prendete appunti, segnate i vostri dubbi, le cose che non avete capito. Partiamo da qui per poi parlarne insieme in classe. Grazie e buon lavoro.